Eccoci qua, buonasera, scusate, metto a posto le ultimissime notizie, le agenzie, vediamo se è successo qualcosa. Sì, ancora voci di minacce tra le due coree, ma veniamo ai fatti di casa nostra con cui aprirremo il nostro giornale. Innanzitutto, governo nel mirino di tutte le forze politiche, perché sapete che era stata fatta anche una vera e propria corsa contro il tempo, il Parlamento aveva dato un mandato con un voto praticamente unanime al governo stesso per varare oggi il decreto con cui si dà il via libera alla restituzione dei soldi, il pagamento dei debiti dello Stato nei confronti delle aziende, i primi 40 miliardi di euro. Ebbene, sono venuti fuori una serie di problemi per cui la riunione del Consiglio dei Ministri, che doveva essere stamattina, è stata rinviata prima a stasera. E poi adesso di nuovo, si sa ovviamente da qualche ora, a data da destinarsi nei prossimi giorni. Protesta furibonda del PDL, ma anche molto marcata da parte del PD, come sentiremo. L'unica notizia positiva su questo fronte è che invece sulla Tares, su un'altra tassa che era in arrivo, invece con soddisfazione dei comuni c'è stato uno slittamento fino a dicembre. Almeno questo nei mesi estivi ce lo risparmiamo. Ma non è tutto dal versante economico. Il Fondo Monetario Internazionale avverte, attenzione, che l'origine dei mali, proprio per quanto riguarda le aziende, il credito alle aziende, deriva proprio da quello spread che avete sottovalutato. Non certo noi, non certo i telegiornali, non certo l'opinione pubblica. Ma invece dal punto di vista della politica vera e propria, l'uscita più forte è quella di Beppe Grillo, che sul suo blog dice guardate che se avete votato per il Movimento 5 Stelle per far sì che i nostri rappresentanti in Parlamento votino a favore dei vecchi partiti, votino per il meno peggio, o addirittura per fare un governo Movimento 5 Stelle, partito democratico, PD-L come la chiama Grillo, dice Grillo se avete votato per questi motivi e per altri che elenca avete proprio sbagliato. E la prossima volta votate per un partito, non per il nostro movimento, votate per un partito. E' direttamente tutta una serie di cose, una rivendicazione della linea del 5 Stelle, una risposta indiretta a quella parte dell'opinione pubblica, elettori del 5 Stelle o no, e forse una parte anche degli eletti che avevano avuto le perplessità sul comportamento intransigente di Grillo e del Movimento stesso ai suoi vertici ed è anche un fischio finale della ricreazione rispetto al Partito Democratico. Non c'è nessuna possibilità di un accordo e queste parole di Grillo impattano con praticamente l'inizio del conto alla rovescia dell'elezione del nuovo Presidente. Tra 15 giorni iniziano le votazioni alla Camera e c'è un clima ancora di incertezza perché ovviamente i maggiori partiti devono decidere il da farsi e nel PD c'è una dialettica sempre più marcata in cui è intervenuto Renzi con parole che sono state interpretate come uno stimolo nei confronti di Bersani. Stiamo perdendo tempo, ha detto, parlando di altro per la verità, ma con parole non casuali, Renzi in un convegno della CGL. Si sa che lo sconfitto delle primarie, il sindaco di Firenze, vorrebbe fare in fretta anche perché il timore che si perda il momento, il momento propizio per lanciare la propria candidatura alle prossime elezioni. Se fossero tra cinque anni forse la stella di Renzi sarebbe già tramontata. Ma c'è tanto altro, come stiamo per vedere dai titoli. Il governo rinvia due volte il varo del decreto che sblocca i pagamenti alle imprese che vantano crediti nei confronti dello Stato, critiche durissime da PD e PDL. È inaccettabile questo slittamento nonostante l'ok del Parlamento, ha detto il capogruppo dei democratici del Senato Zanda. È grave, non consentiremo ulteriori perdite di tempo, ha detto Alfano. Grilli smentisce nuove imposte e dice che si tratta solo di un rinvio tecnico. Sciolto invece il nodo sulla Tares, la nuova tassa sui rifiuti. La sovratassa prevista dal decreto Salva Italia si pagherà solo a dicembre. Solo si fa per dire. Soddisfatti i comuni, il Fondo Monetario Internazionale intanto certifica che lo spread è una delle cause che pesano sul rallentamento del credito alle imprese, parole che stridono con quanto è stato detto più volte. Anche in campagna elettorale lo spread è un'invenzione. Con i toni di un vero e proprio editto, Beppe Grillo si scaglia contro chi rimprovera al Movimento 5 Stelle la mancata intesa con il PD. Chi voleva un governo con i vecchi partiti ha sbagliato a votarci, scrive sul suo blog. E attacca anche gli esperti, i cosiddetti saggi scelti da Napolitano. I dieci saggi sono parte del problema, nessuna riunione con loro. I parlamentari 5 Stelle intanto lavoreranno in una mozione per il ritiro dei nostri soldati dall'Afghanistan. E parte la corsa per il Quirinale, per eleggere il successore di Giorgio Napolitano. Il Parlamento ha convocato in seduta comune alla Camera il 18 aprile per la prima votazione. La partita per il Colle si incrocia con quello ovviamente per Palazzo Chigi. E tra PD e PDL dopo le schermaglie si parla di un incontro evocato ieri da uno dei due interessati tra Bersani e Berlusconi. Mentre comincia ovviamente inevitabile la girandola dei possibili candidati. E nel PD torna a farsi sentire il rottamatore. La politica che non sa correre mentre il mondo chiede di andare a velocità doppia, ha detto Matteo Renzi. Un intervento che mette in allarme lo Stato Maggiore del partito nel giorno in cui si registra lo strappo di un gruppo di senatori renziani che presentano un disegno di legge contro il finanziamento dei partiti. Su cui però piovono critiche anche dai vertici del PD. Divisione anche su un possibile, e sullo sfondo, su un possibile governo in larga intesa. Spese facili alla regione Calabria. Mancava praticamente all'appello, alla carta geografica solo alla Calabria. Dieci consiglieri, otto del centro-destra, due del centro-sinistra, indagati per peculato dalla procura di Reggio. Utilizzavano i fondi pubblici per pagare la manutenzione delle auto personali, viaggi in piacere, persino i biglietti del gratta e vinci. Sparito mezzo milione di euro. Buonasera, allora come avete visto c'è tanto di cui parlare, ma soprattutto c'è una mossa sorpresa. In realtà è stata una scelta che è venuta maturando da parte del governo di non riunire questa mattina il Consiglio dei Ministri per l'attesissimo decreto sulla prima parte della restituzione del debito della pubblica amministrazione alle imprese private. Doveva slittare a stasera la riunione e poi è stata rinviata a data non ancora precisata, tra le proteste concentriche di tutte le forze parlamentari che si sono sentite prese in giro da Monti e dai suoi ministri. Prima uno spostamento a mezzasera, poi un rinvio a data da destinarsi. Il Consiglio dei Ministri che non c'è lascia a bocca asciutta le imprese e presta il fianco a tutte le interpretazioni politiche e tecniche possibili. Il decreto che avrebbe dovuto sbloccare 40 miliardi di euro per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione ha bisogno di un'ulteriore messa a punto, spiega la nota con la quale la Presidenza del Consiglio a metà giornata annulla la riunione dell'esecutivo Monti. Il Consiglio dei Ministri si farà non più tardi di lunedì prossimo, assicurano da Palazzo Chigi, non c'è nessun giallo. Il problema è nel testo licenziato dalla Ragioneria Generale dello Stato che la Rete e le associazioni delle imprese hanno subito giudicato ad alto altissimo tasso di burocrazia. Un sistema troppo macchinoso che avrebbe reso la riscossione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti dello Stato una vera e propria chimera. Serve una semplificazione ed ecco che a metà pomeriggio al Ministero dell'Economia fanno capolino i rappresentanti delle imprese per un nuovo giro di consultazioni. Ma gli approfondimenti di cui parla la nota di rinvio sono anche necessari per capire da dove salteranno fuori i soldi per pagare le imprese. Il problema è con l'Europa che non ci permette di alterare il rapporto deficit-pill che deve rimanere sotto il 3% e oggi al telefono il Presidente del Consiglio Monti ha impiegato una buona mezz'ora per spiegare al Commissario per gli Affari Economici, Oli Renn, che l'Italia manterrà gli impegni e rimarrà al di sotto di quella soglia. L'ipotesi ventilata ieri di un aumento dell'addizionale IRPEF per la copertura finanziaria del decreto sui debiti della pubblica amministrazione ha scatenato reazioni indignate da ogni angolo politico e sindacale, anche perché, secondo i primi calcoli, più che di un aumento si sarebbe trattato di un vero e proprio raddoppio dell'addizionale regionale. Fantasma da scacciare, dunque, conseguenti smentite provenienti da tutte le fonti possibili. Del resto, un governo per gli affari correnti che aumenta le tasse sarebbe davvero troppo. Detto questo, il problema della copertura rimane e dovrà essere risolto entro lunedì, eppure all'uscita di Palazzo Chigi, il Presidente del Lancio, reduce da un incontro con il governo, sembra ottimista. La situazione si sbloccherà entro lunedì e da subito saranno disponibili 7 miliardi, dice Graziano del Rio, che poi spiega come il decreto potrebbe comprendere anche la norma che stabilisce il rinvio del pagamento della Tares, l'onerosa e complicata nuova tassa sui rifiuti e servizi, inizialmente prevista per luglio. I comuni potranno utilizzare per i pagamenti della raccolta rifiuti le vecchie modalità fino all'ultima rata, e quindi non avremo problemi di liquidità e di rifiuti per strada, come avevamo denunciato, perché il governo ha accettato di poter applicare la Tares solamente all'ultima quota, novembre e dicembre, dove sarà presente la sovrattassa che lo Stato incassa. La decisione del governo, o per meglio dire l'indecisione del governo, ha provocato reazioni sin da quando si è preso del primo rinvio a stasera. Figuratevi quando si è saputo che poi il rinvio era di giorni e giorni, fino alla settimana prossima. Quello di Monti è un governo di zombie diviso al suo interno. Renato Brunetta, capogruppo PDL, usa l'accetta e il rinvio del Consiglio dei Ministri, che avrebbe dovuto sbloccare i pagamenti dello Stato alle imprese, diventa l'occasione per scaricare le tensioni su un esecutivo di missionario che non ha più sponde politiche, anche se sabato scorso Napolitano aveva voluto ricordare che il governo è tuttora in carica e non è mai stato sfiduciato. Ma il supertecnico Mario Monti, dopo il suo ingresso in politica, diventa ancora una volta il bersaglio di quella stessa strana maggioranza che lo aveva sostenuto nella scorsa legislatura. È grave il rinvio e dimostra che i nostri sospetti erano giusti. Il governo sa solo tassare, dalla linea al PDL, il segretario Alfano. Non consentiremo ulteriori perdite di tempo e impediremo che lo Stato paghi i propri debiti caricandoli sulle spalle dei cittadini. Dalla stessa parte della barricata, la russa, Fratelli d'Italia, boccia il rinvio come la seconda figuraccia di Monti dopo la vicenda dei Marò. Per il PD parla il responsabile economico del partito Fassina. Toni meno forti, ma il dito è puntato sempre sull'esecutivo. Il rinvio è sconcertante. Il governo dovrebbe chiarire al più presto le ragioni della sua scelta. Il decreto è urgente, oltre che necessario. Il presidente Monti può spiegare? Inaccettabile questo slittamento, aggiunge il capogruppo al Senato Zanda, mentre le imprese boccheggiano e sono costrette a chiudere, licenziando i lavoratori, mettendo sulla strada intere famiglie. Più cauta la Lega, preoccupata dal merito più che dal metodo. Va bene il rinvio, dice Gianluca Pini, purché sia brevissimo e tenga conto delle nostre richieste, c'è un meccanismo premiale che favorirebbe le regioni più virtuose, quelle del Nord. Roberta Lombardi dei 5 Stelle accusa. La decisione è slittata, ma intanto nessuno ci ha comunicato come il governo vuole erogare i soldi. Il testo è stato inviato a Bruxelles, ma non alle Camere. In difesa di Monti arrivano i suoi di scelta civica. È quantomeno singolare che PDL e PD speculino sull'azione di questo governo, che lavora alla soluzione di un problema lasciato incancrenire dai governi precedenti, dice Benedetto della Vedova. C'è solo da augurarsi che si passi dalla demagogia della fase preelettorale alla responsabilità che servirebbe oggi nell'interesse dell'Italia. Come avete visto oggi è andato male la borsa, è andato abbastanza bene lo spread, abbastanza bene anche se siamo ancora a quota 330. E proprio lo spread di cui tanto si è parlato, da almeno un anno e mezzo a questa parte, è, secondo il Fondo Monetario Internazionale, una delle cause principali, che si dica per ridimensionarlo, della difficoltà soprattutto delle imprese rispetto alla possibilità di ottenere credito dalle banche. Lo spread? In campagna elettorale c'è chi lo aveva definito un'invenzione, aveva comunque invitato gli italiani a dimenticarselo. A ricordarci invece quanto pesi questo spread sulle nostre imprese e alla lunga anche sulle nostre tasche, arriva un documento del Fondo Monetario Internazionale. Le analisi, dice il documento, mostrano che un aumento dello spread tra BTP e Bund, cioè ricordiamo il maggior costo che il nostro paese è costretto a pagare agli investitori per finanziarsi sui mercati internazionali rispetto alla Germania, fa salire rapidamente anche i tassi dei prestiti alle imprese. Per la precisione, dice il documento, il 30-40% dell'incremento viene trasmesso ai tassi di interesse sui prestiti alle imprese nel giro di tre mesi e il 50-60% nel giro di sei. Anche le nostre banche dunque risentono delle difficoltà di finanziamento legate allo spread perché anche loro hanno bisogno di raccogliere capitali e per farlo devono offrire agli investitori un rendimento almeno superiore a quello dei titoli pubblici e di conseguenza quando lo spread si alza, si alzano anche i costi per il sistema bancario. E scendendo di un gradino ancora, le banche a loro volta alzano i tassi dei prestiti fatti alle imprese grandi o piccole. In un sistema come il nostro, dove solo poche imprese con le spalle larghe possono finanziarsi direttamente sul mercato con obbligazioni proprie, quindi senza passare per i prestiti bancari, ogni rialzo dello spread diventa una specie di mannaia. Con la conseguenza che le imprese poi sono costrette a scaricare il maggior costo dei finanziamenti sui prezzi dei loro beni o servizi, diventando automaticamente meno competitive. E secondo quanto scrivono i tecnici di Washington, la contrazione del credito durante l'attuale crisi è stata più severa proprio per le piccole e medie imprese e più pronunciata di quella del 2009. L'andamento dei prestiti alle PMI è passato da una crescita dello 0,4% nel novembre del 2011 a una flessione del 5,9% nello stesso mese del 2012. Per noi oltretutto, dice ancora il rapporto dell'FMI, l'elevato livello di debito o l'aumento della quota dello stesso debito in mano ai non residenti non fanno che amplificare l'impatto di ogni mossa dello spread. Che per fortuna per ora si mantiene relativamente calmo, oggi ha chiuso più o meno sui livelli di ieri. Male invece le borse europee e Milano in testa che come vedete ha perso oltre due punti per colpa di una serie di ribassi di titoli pesanti, bancari e telecomunicazioni, ciascuno per motivi diversi. Ma questa è un'altra storia. Sotto il cielo della politica invece il fatto principale, almeno a nostro avviso, è la Sara Cinesca chiusa definitivamente da Grillo su ogni possibilità di rapporto con il PD, ogni votazione in elezioni parlamentari con i partiti tradizionali e soprattutto un avvertimento a elettori che avessero malinterpretato la possibilità di scelta col Movimento 5 Stelle. Se ci avete votato per fare accordi con i vecchi partiti avete proprio sbagliato voto. Non rifatelo. Perché hai votato il Movimento 5 Stelle? Per fare un governo con i vecchi partiti? Per votare in Parlamento e meno peggio? Per discutere con il PD meno L di programma quando quello del Movimento 5 Stelle è il suo esatto contrario? Per spartire poltrone e posti di comando a partire dalle presidenze di Camera e Senato? Se il tono dell'attacco fosse direttamente proporzionale ai timori se ne dovrebbe concludere che Beppe Grillo troppo tranquillo sulla tenuta interna dei suoi cittadini appena sbarcati in Parlamento non sia. Qui non siamo più né ai punti del programma né ai puntini sulle I. Qui siamo ad un vero antiprogramma, ad un programma del no. Il rischio di scilipodizzazione, così lo aveva anche chiamato Grillo, l'aveva già messo in conto intorno al 15%, aveva nominato i coordinatori per la comunicazione, aveva scritto, detto, ripetuto e ribadito in tutte le salse, l'ultima volta proprio ieri, che così come tra Grasso e Schifani, nemmeno tra Monti e Bersani esistono differenze di sorta. A suggerirgliela questa nuova reprimenda devono essere state le ultime vicende interne, le voci dei neoeletti, levatesi ora qui, ora là, su un blog e via Twitter o magari davanti a un microfono, che destituiscono il quadro di un meccanismo doveppure si agitano insieme alla volontà di cambiamento anche dubbi e incertezze da tradurre poi in un atteggiamento per così dire più conciliante. Come quello della deputata Mara Mucci, che si smarca, adeguandovisi tuttavia, dalla scelta presa ieri di non fare nomi per un possibile governo, fare nomi sarebbe stato coerente con la proposta dei nostri elettori che ritengono giusto influenzare le scelte della politica. Più che i punti, anzi meglio, gli antipunti elencati da Grillo, vale il tono raramente così arrembante, così simile a quello di un vero e proprio severo promemoria sul perché si siano votate le 5 Stelle che chiude così drasticamente. Se hai votato il Movimento 5 Stelle anche soltanto per uno di questi punti, allora hai sbagliato voto. Mi dispiace, la prossima volta vota per un partito. Ma se le defezioni sono solo al massimo temute, sicure sono le proposte su cui non manca certo la compattezza. Una è la richiesta per la formazione delle nuove commissioni, appoggiata solo da Selle e Lega, contrastata da tutti gli altri partiti. Le altre sono due mozioni cui il Movimento 5 Stelle sta lavorando e che non mancheranno di far rumore. Una per la sospensione del programma sui famosi costosi aerei F-35, l'altra per il ritiro delle truppe in Afghanistan. E con quest'ultimo elemento, cioè l'indisponibilità di Grillo e del Movimento 5 Stelle a aiutare uno piuttosto che l'altro, è iniziato il conto alla rovescia per l'elezione del successore di Giorgio Napolitano. Mancano esattamente 15 giorni. È convocata la prima riunione delle Camere riunite insieme ai rappresentanti delle Regioni per il 18 di aprile. L'inversione dell'agenda politica, prima il Quirinale e poi il nuovo governo, rende più che mai decisiva questa volta la partita del Colle, che si comincerà a giocare tra 15 giorni. Il Presidente della Camera, Laura Boldrini, su invito del Presidente della Repubblica, è sentito il Presidente del Senato. Ha convocato per il 18 aprile la prima seduta congiunta delle Camere, integrate dai 58 grandi elettori nominati dalle Regioni per eleggere il successore di Giorgio Napolitano. Due settimane di tempo ancora per trattare, discutere e formulare candidature, dunque. La Costituzione prevede che i primi tre scrutini siano a maggioranza di due terzi, come accade per Cossiga e Ciampi, entrambi eletti al primo voto. Si presuppongono dialogo e larghe intese tra le forze politiche. Dal quarto scrutinio basta la maggioranza semplice, e il centrosinistra si avvicina da solo all'obiettivo. Gli basterebbero una quindicina di voti aggiuntivi per arrivare a quota 504. Larghissima convergenza è però quello che ha auspicato ieri Pierluigi Bersani, che si è detto disposto a incontrare Berlusconi per discuterne. Contatti sono in corso per un faccia a faccia, forse già in settimana, incontro che vuole anche il Cavaliere. Terrorizzato dal fantasma di un Presidente nemico come Romano Prodi, capace, sembra, di riscuotere consensi tra i 5 Stelle, farebbe sparire Berlusconi dalla carta geografica, ha detto Grillo. Un'arma di dissuasione è quella di una candidatura PD 5 Stelle, che Bersani ha già sfoderato, contrapposta e vincente sulla chiusura del PDL, che rivendica al centrodestra il nome del futuro capo dello Stato. Gianni Letta, la proposta fatta da Berlusconi, ma è irricevibile per il PD. Da queste posizioni contrapposte si dovrà uscire. Tocca muovere al centro-sinistra con l'offerta di nomi d'aree accettabili dal centrodestra, come Amato, Marini, lo stesso D'Alema. Oppure una donna, si dice, torna in campo la candidatura di Emma Bonino. Il PDL potrebbe lavorare in alternativa a un bis di Napolitano. Impossibile per il PD di Renault se si creassero le condizioni di una ricandidatura ampiamente condivisa. Nel frattempo, due settimane di lavoro inquirinale per i facilitatori scelti da Napolitano, che al suo successore vorrebbe lasciare un'istruttoria fatta per riavviare la macchina del nuovo governo ora impantanata nella palude dei Veti. Se si creasse un nuovo clima a dispetto dello scontro che ora profuma già di campagna elettorale, la stessa scelta del nuovo Presidente della Repubblica sarebbe facilitata. Altrimenti, la strada verso nuove elezioni sarebbe più in discesa. E intanto, siccome era stata fissata proprio per il 18 aprile, slitterà l'udienza della sesta sezione penale della Cassazione che doveva decidere se trasferire da Milano a Brescia i processi Mediaset e Rubi in cui è imputato, come si sa, Silvio Berlusconi. E quel giorno, inevitabilmente, sia l'ex Premier, sia i suoi avvocati, i deputati Ghedini e Longo saranno ovviamente alla seduta delle Camere riunite e chiederanno il legittimo impedimento. E quindi slitteranno anche i processi che erano stati sospesi, che dovevano riprendere Mediaset il 20 aprile e Rubi il 22 aprile. Adesso vediamo che cosa succederà, perché evidentemente anche su questo c'è battaglia non solo tra accusa e difesa. Peraltro per domani era stata annunciata una clamorosa manifestazione di una sola persona, Rubi, davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. Ma c'è un partito in cui l'avvicinarsi delle elezioni provoca fibrillazioni più che gli altri. È il partito che ha il maggior numero di grandi elettori, il PD. Noi oggi viviamo un momento nel quale ricordiamo i 120 anni e viviamo una situazione politica e istituzionale in cui stiamo perdendo tempo. È un paradosso ricordare i 120 anni, cioè vivere un'occasione di riflessione sul tempo e non rendersi conto che oggi il mondo ci chiede di correre a una velocità doppia. Renzi non nomina Bersani, ma le sue parole alla celebrazione dei 120 anni della Camera del Lavoro di Firenze davanti alla leader del sindacato Camusso con cui polemizzò a ripetizione durante la campagna per le primarie del centro-sinistra sono tutte per il segretario del PD. Una presa di distanza netta dalla linea ufficiale del Partito Democratico ribadita ancora ieri da Bersani. No categorico a un governo con il PDL ricerca di un'ampia convergenza ma nessuno scambio sul Quirinale. Stallo a oltranza mentre girano le lancette del conto alla rovescia per l'elezione del nuovo capo dello Stato partita che Bersani è deciso a mantenere separata da quella per il governo. Rebus da affidare al successore di Napolitano. Un'inversione dell'agenda politico-istituzionale sempre più concreta con il passare dei giorni. Scenario Quirenze e i suoi disponibili a un'ipotesi di larghe intese per l'esecutivo e convinti che sul Quirinale si debba puntare sul nome condiviso con il centrodestra guardano con diffidenza sospettando la ricerca di un accordo sul Quirinale tra Bersani e Grillini la possibilità che il nuovo inquilino del Colle possa affidare al segretario del PD l'incarico di formare il governo anche senza la certezza dei voti al Senato e che così si allontani la prospettiva dell'uscita di scena di Bersani e della discesa in campo del sindaco di Firenze. A Renzi, dal quartiere generale del PD rispondono Bressa seguiamo i tempi dettati da Napolitano e Zoggia chi dice che si perde tempo fa cattiva politica ma non tutta la maggioranza del partito in cui si coglie più di un malumore per l'immodificabilità della linea di Bersani si schiera contro Renzi ha ragione o si fa il governo si vada subito al voto commenta Francesco Boccia ma l'offensiva renziana è a tutto campo a Palazzo Madama dieci senatori vicini al sindaco di Firenze presentano un disegno di legge per l'abolizione dei rimborsi elettorali cavallo di battaglia di Grillo non del PD che preferirebbe limitarsi a tagli e controlli rigorosi il testo non riflette la proposta del partito è la replica secca del tesoriere Misiani ma per Renzi arriva il plauso di Italia Futura la fondazione animata da Luca Cordero di Montezemolo da lui le uniche iniziative contro il populismo dilagante bisogna uscire subito dal pantano e questo è quello che è successo nella politica a livello centrale i partiti cercano intese cercano di rifarsi una reputazione molti di loro sono usciti provati dalla scorsa legislatura non solo per quello e non tanto per quello che magari è successo in Parlamento ma quello che è successo a livello locale gli scandali nelle regioni ad esempio ma sembrano non finire mai le inchieste un po' in tutte le procure interessate sui rimborsi spese allegri per non dire di peggio nelle varie regioni è una sorta di viaggio attraverso l'Italia che oggi è approdato in Calabria buchi nelle casse delle regioni soldi pubblici volati via in viaggi cene caviale ipad computer e persino in barattoli di Nutella come è successo in Lombardia di scandali se ne sono visti tanti oggi è la volta dei consiglieri della regione Calabria che si facevano rimborsare come spese personali anche i biglietti della fortuna gratta e vinci i conti del consiglio regionale della Calabria sono stati passati al setaccio dalla guardia di finanza quattro mesi di indagini fino alla conclusione di oggi dieci consiglieri indagati per peculato insieme a quasi tutti i direttori amministrativi dei gruppi in carica negli ultimi tre anni l'inchiesta della procura regina ha svelato un buco nei conti di Palazzo Campanella sede della regione di più di un milione di euro di cui almeno mezzo milione spariti evaporati soldi di cui non c'è traccia nessuna pezza d'appoggio nessun riscontro giustificativo tra gli scontrini e le fatture presentati come rimborso e analizzati dai finanzieri invece sono spuntati oltre ai gratta e vinci contravvenzioni stradali viaggi all'estero hotel a 5 stelle ristoranti rate di automobili conti del carrozziere affitti di appartamenti bollette varie persino le tasse da versare all'agenzia delle entrate messe a carico della regione fino ad un semplice caffè consumato al bar da 70 centesimi correlativo scontrino voci che poco hanno a che fare con l'attività politica tutto finiva in nota spese rimborsato dalla regione i 10 indagati saranno interrogati a partire dalla prossima settimana non si conoscono ancora le loro identità si sa che 8 appartengono al centro-destra 2 al centro-sinistra il quadro che emerge dall'indagine è davvero desolante e riguarda indistintamente tutti i gruppi commentano gli inquirenti le indagini riguardano il periodo dal 2010 al 2012 ma non è escluso che i magistrati dopo aver scoperto il buco nero decidano adesso di spulciare i conti dei gruppi consigliari anche per i periodi precedenti non per dire che tutto il mondo è paese ma vi devo almeno riferire che l'infanta Cristina che è la figlia minore di re Juan Carlos di Spagna è stata indagata nel caso di fondi illeciti nel quale già è coinvolto suo marito l'ex campione di pallamano Inaki Urdangarin sarà interrogato che dovrà probabilmente presenziare al processo l'infanta poco fa la corte spagnola ha espresso sorpresa per questa decisione di indagare appunto sulla figlia minore dei reali di Spagna tra poco dopo di noi a otto e mezzo l'ospite di Ligruber Giovanni Floris poi c'è una puntata delle invasioni barbariche dove gli ospiti sono tanti mi ricordo sicuramente Serena Dandini c'è anche Paola Ferrari Suor Anna Michela Marzano ma non ci sono soltanto donne perché ad esempio c'è Maccio Capatonda ma noi ci fermiamo Allora come sempre chiudiamo con un'occhiata alla borsa di oltreatlantico il Dow Jones è questa sera in negativo dopo una lunga sequenza positiva perde lo 0,72% e ancora di più l'1,18% ma del resto le borse europee erano andate tutte male perde il Nasdaq è tutto vi lascio 8,5 le invasioni barbariche buonasera domani grazie a tutti Grazie a tutti.